L'Istituto Prever che rappresento e che comprende la sezione dell'alberghiero e la sezione dell'agrario ha aderito con entusiasmo a questo progetto perché gli obiettivi di questo progetto sono pienamente coerenti con le priorità che noi come istituto ci siamo dati. In primo luogo nell'ambito della priorità educazione ad una cittadinanza responsabile e attiva questo progetto permette a giovani studenti di acquisire una mentalità nei confronti della sostenibilità in primo luogo ambientale. In secondo luogo questo progetto permetterebbe agli studenti di acquisire competenze sia trasversali che professionali negli ambiti specifici di studio. In particolare noi parteciperemo con una terza classe di cucina per l'alberghiero e una terza classe del tecnico agrario per l'Istituto Agrario. I due percorsi di studio rientrano secondo noi in linea con questo progetto sia anche perché noi lavoriamo già in filiera per esempio per cui i prodotti agricoli diventano materie prime per le esercitazioni pratiche di cucina. Si tratterà di sviluppare questi aspetti e dare davvero agli studenti l'opportunità anche nel futuro di mettere a frutto questa concezione del green e dell'economia sempre più sostenibile.